Segui Gesù e non voltarti indietro. Cristo risorto! Buona domenica carissimi amici! Ascoltiamo il Vangelo di oggi che è Luca 9, 51, 62. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse «Seguimi». E costui rispose «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò «Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro e adatto per il regno di Dio». Amen. Carissimi, oggi abbiamo ascoltato in questo capitolo nono del Vangelo secondo Luca un momento fondamentale nel ministero di Gesù quando Lui decide fermamente di andare a Gerusalemme. E conosciamo nella nostra scuola biblica dagli studi fatti su questo Vangelo che il desiderio di Gesù in questo Vangelo è di andare a Gerusalemme perché è lì che si realizzerà la promessa del Padre di salvare tutti gli uomini per mezzo del suo figlio Gesù. Ecco perché Gesù si dirige con decisione e proprio in questo cammino vengono e si presentano tre persone che dicono a Gesù «Io ti voglio seguire, io sono attratto dalla tua parola, dal tuo insegnamento, voglio venire dietro a te». Allora vediamo che il primo dice «Ti seguirò dovunque vada» e Gesù dice «Guarda che io non ho dove porre il mio capo, sappi che non saprai dove sto per andare perché un giorno vado di qua, un giorno vado di là». Il cammino incontro a Gesù e verso Gesù è un cammino dove noi ci lasciamo guidare dalla provvidenza. La seconda persona accoglie l'invito di Gesù quando le dice «Seguimi», però risponde dicendo «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio Padre». Ecco, un impedimento potremmo dire giustificato, un impedimento giusto per non andare dietro a Gesù, ma Gesù dice «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va e annuncia il regno di Dio». Chiaramente qui Gesù sta facendo vedere e l'Evangelista Luca a tempo stesso che seguire Gesù è una priorità sopra ogni cosa. Infine, un'altra persona dice a Gesù «Ti seguirò, Signore, però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Lascia che io prima sistemi tutte le cose. E Gesù risponde dicendo «Nessuno che mette mano all'aratro» e poi si volge indietro «è adatto per il regno di Dio». Fratelli e sorelle, in queste tre chiamate, tre persone diverse, noi vediamo anzi due motivi essenziali, la chiamata e l'ostacolo alla chiamata. Oggi non parliamo soltanto di una chiamata, quella che potrebbe essere a seguire Gesù come consacrato, come sacerdote, ma è una chiamata di ogni cristiano a seguirlo con tutto il proprio cuore, la mente e la vita e la famiglia. Ma quante volte noi che tutti abbiamo ricevuto una chiamata da Dio per mezzo del suo figlio Gesù, quante volte noi poniamo davanti un ostacolo, poniamo davanti un problema, una situazione per la quale io non sono obbligato di seguire Gesù, non sono obbligato oggi di seguirlo, posso farlo domani. Guarda Gesù, aspetta che mi sistemi il conto in banca, il mio lavoro, i miei affari, la mia situazione sentimentale, il mio matrimonio. Aspetta che mi sistemi, poi ti seguirò. la mia salute, Signore, attendi che io possa fare le terapie, curarmi e poi quando sarò sano ti seguirò. Gesù oggi dice metti la mia chiamata al di sopra di ogni cosa, non lasciare che ci siano altri ostacoli, tutti giustificati, perché è l'uomo che dice Signore, come posso seguirti? se, se e se. Pensate che io all'età di 15 anni ho sentito la chiamata del Signore. Lo avevo incontrato già qualche anno prima in un modo molto forte, ma nel mio cuore c'è sempre stato il desiderio di condividere la mia vita con un'altra persona, con una ragazza, di sposarmi, avere figli e vivere come sentivo nel mio cuore di vivere. Ma sapevo che Dio voleva e vuole il meglio per me e da me e che se un giorno mi avesse chiamato io sarei stato disponibile chiaramente prima di intraprendere qualsiasi cammino con un'altra persona, con una ragazza. Il Signore tra i 15 e i 16 anni mi ha chiamato, mi ha fatto sentire fortemente che il progetto suo per me era consacrarmi, cioè lasciare i beni materiali, la mia libertà e il dono del matrimonio per sempre. Quindi non viverli su questa terra attraverso la comunità che mi ha dato. in questo caso per me la coinonia Giovanni Battista che siamo una comunità di consacrati non solo famiglie ma anche consacrati e sacerdoti. Io volevo qualcos'altro. Io potevo dirgli Signore ma permettimi di seguirti con una moglie al fianco, con tanti bei bambini, con una bella famiglia. Io avevo tutto il diritto di dirglielo ma mi sono fidato di Dio. Ho creduto che questo era il meglio per me anche se non sentivo perché la logica del mondo di oggi è se senti qualcosa, se senti di amare qualcuno, se senti di amare qualcun altro datti all'amore, a questo amore perché quello ti rende libero. no fratelli e sorelle no, no e no. L'amore che rende liberi è l'amore di Gesù perché è l'unico che conosce il tuo cuore, è l'unico amore che ti libera da tutte le catene di questo mondo che ti fanno credere che sei libero di scegliere il meglio per te. Ma chi ha incontrato Cristo ve lo dico perché sono più di trent'anni che l'ho incontrato e da quel giorno la mia vita è sempre piena e chi segue Cristo sperimenta la vera libertà. Fratelli e sorelle io in quel giorno quando ho sentito che il Signore mi chiamava a seguirlo e a lasciare tutto e ho detto sì perché ho avuto fiducia non perché ho sentito attrazione per il regno di Dio per lasciare non è stato così ho avuto fiducia nelle parole di Gesù che mi ha detto Luca seguimi ho lasciato tutto il mio cuore è diventato libero fratelli e sorelle il mio cuore è esultato di gioia e come il suono di queste campane anche nella mia vita ci sono stati dei rintocchi di gioia di libertà che ho sperimentato giorno dopo giorno anno dopo anno e io lo posso testimoniare che chi segue Cristo ha il cuore libero e come è stato per me da consacrato io ho fratelli e sorelle nella mia comunità che hanno fatto la stessa esperienza di lasciare tutto per il regno dei cieli così anche per te che sei chiamato a vivere nella famiglia con una moglie con un marito con dei figli quanto è importante mettere però al primo posto Gesù la sua chiamata e non il lavoro non la persona non le altre cose e pensate che quando il Signore mi ha chiamato avevo quasi 18 anni prima di entrare in comunità e ho terminato il mio ultimo anno di liceo classico a Roma perché lì c'era la comunità dei consacrati della coinonia degli studenti i miei genitori abitavo vicino a Vicenza mi hanno accompagnato alla stazione mi hanno messo in treno e io sono partito per Roma pensate 18 anni appena compiuti intraprendevo un nuovo cammino della mia vita e salito in treno ero felice dicevo Gesù che bello ti seguirò sarò con te avrò il meglio che tu mi darai e il treno parte e dall'altra parte non mi ero accorto che mio papà e mia mamma mi stavano salutando lì davanti al vetro e sono andato dritto senza voltarmi mia mamma in quel periodo era un po' tristolina era felice della mia chiamata ma diceva Signore come mai mio figlio non ci ha guardato non ci ha salutato e qualche tempo dopo durante la sua preghiera personale il Signore le ha dato questa parola nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio e mia mamma ha detto Signore grazie perché mio figlio Luca è deciso a seguirti e non si volge indietro e così è cari amici allora chiediamo al Signore il dono di seguirlo senza dubbi senza esitazioni grazie Signore Gesù per questo giorno grazie per la Tua chiamata grazie perché oggi entri nella nostra vita grazie perché ci chiedi di mettere te prima di tutte le altre cose di ogni altro pensiero Signore aiutami attraverso il Tuo Spirito Santo a seguirti così come sono con le mie debolezze le mie fragilità le mie giustificazioni che spesso mi fanno dire domani domani seguirò il Signore domani farò meglio Signore Signore oggi decido di venire incontro a Te Spirito Santo rafforza la mia fiducia nella promessa di Dio nella chiamata di Dio rafforzami e donami autorità in quelle situazioni in cui mi sento debole a Te Gesù l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli a me carissimi amici prendiamo allora questi bellissimi versetti del Vangelo di Luca capitolo 9 facciamo un nostro slogan che è segui Gesù e non voltarti indietro anche oggi non domani non dopodomani seguiamo Gesù mettiamo da parte le giustificazioni ogni impedimento ed ostacolo e avremo la pienezza che solo Dio ci può dare perché solo Dio conosce la nostra vita i nostri segni segreti il nostro cuore amè grazie che mi avete accolto ci vediamo domani ciao Cristi Land è qui viene a giocare Cristi Land la terra di Gesù Cristi Land è qui viene a giocare Cristi Land vedrà un miracolo Cristi Land Cristi Land la terra la terra di Gesù Cristi Land è qui viene a giocare Cristi Land vedrà un miracolo se sei grande se sei un bimbo così come sei troveremo i nostri sogni qui a Cristi Land qui a Cristi Land è qui è qui